Buon pomeriggio, buon pomeriggio Trifone Mastro Giacomo, dottor Morelli benvenuto. Grazie. Torniamo finalmente con questi webinar dopo, quindi questo è il nostro primo webinar del duemilaventuno grazie per la disponibilità e se ci vuole brevemente presentare allora buon pomeriggio lo presento io e il mio diabetologo di fiducia e quindi il dottor Nicola Morelli una persona molto competente a cui abbiamo chiesto oggi di parlargli di diabete, osas e problemi cardiocircolatori. Dottore se vuole ringrazio il presidente Roberto e il vicepresidente Mastro Giacomo con questo invito che è diciamo è abbastanza impegnativo posso dirvi perché sostanzialmente io mi occupo che cosa so fare e cosa non so fare io sono un internista, mi occupo da ex ospedaliero, mi occupo da molto tempo di malattie cardiometaboliche in particolare di diabete e ipertensione e non mi occupo di ossa però sono molto sensibile al problema ossa perché lo vedremo anche fra poco perché mi è stato chiesto quindi di cercare di capire quali sono le relazioni fra queste malattie cioè mi è stato chiesto di fare questo lavoro qui che faremo insieme il problema è che per capire le relazioni fra le tre malattie bisogna avere conoscenze abbastanza diciamo approfondite su queste malattie e noi piano piano vedremo oggi di arrivare a entrare nei meccanismi fini che determinano le relazioni fra queste malattie. Tutto parte da questa macchina poterosa, il cervello, un chilo e mezzo di roba, di acqua, grassi, un chilo e mezzo quindi 2,5% circa. Mi scusi dottor Morelli, le lancio la presentazione? Vuole tornare indietro? Perché non era online. Ok, allora. Sì, ero online prima. Sì, scusate. Prego. Colpa mia. Non vedo più. Ok. Adesso le lasciamo lo spazio per la presentazione e ci rivediamo al termine della presentazione. Perfetto. Prego. Ok. Allora dicevo, quello che stiamo facendo è questo, cercare di capire le relazioni e quello che dobbiamo, che vi chiedo di fare è seguirmi in questo percorso nel quale cercherò di portarvi i meccanismi fini delle patologie, in particolare diabete e ipertensione, per poi capire le relazioni con le osi. Tutto nasce, dicevo, in questa bellissima macchina, il cervello, un chilo e mezzo di materiale, 75% acqua e grassi. Questa macchina che pesa il 2%, diciamo, un chilo e mezzo, quindi rispetto al peso corporeo è veramente esiguo, però consuma il 20% di ossigeno in tutto il corpo. Questo ci fa capire una cosa, che è una macchina che brucia e una macchina che brucia qualche cosa la farà. Il cervello è formato da questi, da neuroni, scusate, sono 100 miliardi di neuroni, loro sono le cellule cerebrali e organizzate in queste circonvoluzioni, è un po' un agglomerato e se è stato, diciamo, per fare un esempio, se noi prendessimo tutte queste circonvoluzioni e le aprissimo su una superficie, avrebbe le dimensioni, vedete, di questo tovallo. C'è quello formato da 100 miliardi di neuroni. Il neurone, che cos'è la cellula fondamentale, è formata a sua volta da un corpo, dentro cui c'è il nucleo, da delle arborizzazioni, quindi questi, queste dendriti vengono chiamate e poi da una tessuto nervoso, un pretto, un filamento di tessuto rivestito da guaina, che ha una, diciamo, può avere una dimensione variabile a seconda da 0 micron, quindi millesimi di millimetro, fino a un metro addirittura, e termina con un bottone terminale, con delle, dei piccoli bottoni che mettono in relazione un neurone con l'altro. E come funziona la trasmissione? La trasmissione dell'informazione in questa cellula è una trasmissione elettrica, c'è una piccola corrente elettrica. Ora, se vedete questo cartoon che si ripete, questo è il neurone, questo blu, poi c'è la membrana e c'è l'esterno. La cellula all'interno è negativa, c'è a meno 70 millivolt. Quando l'informazione arriva, avviene lo scambio attraverso questi ioni sodio-potassio, quindi immaginate che un'onda, il neurone da negativo diventa positivo e poi torna negativo, cioè questo diagramma qui da meno 70 millivolt, a più 30 millivolt, a meno 70 millivolt e così passa l'informazione. L'impulso nervoso ha una direzione, non solo, ed ha una velocità di trasmissione. Non tutte le fibre sono veloci allo stesso modo, ci sono fibre un po' più lente, nella quale la trasmissione, l'informazione viaggia a 18 km l'ora circa, ci sono fibre molto più veloci, nella quale l'informazione arriva a 430 km l'ora. Allora, Susan Bolt corre i 100 a 37 km l'ora, quindi un po' più veloce delle fibre più lente, però la Bugatti Chiron è un po' più lenta della fibra nervosa più veloce. Questo per farvi capire la bellezza di questo meccanismo. E se noi avessimo un assone di 10 cm, beh, sarebbe la informazione viaggerebbe in 80 millisecondi, quindi rapidissima. I neuroni come comunicano fra loro? Abbiamo visto che c'è una corrente elettrica che passa lungo il neurone, ma deve passare da un neurone all'altro. E per passare da un neurone all'altro, quei bottoni che abbiamo visto prima, chiamati sinapsi, attraverso quei bottoni, appunto, l'informazione elettrica arriva, viene trasformata in informazione chimica, cioè ci sono delle microvescicole che vengono rilasciate nello spazio fra un neurone all'altro, i neurotrasmettitori, che si legano ai recettori sul secondo neurone, di nuovo corrente elettrica e via. E così passa l'informazione fra un neurone all'altro. Questa è una foto a microscopio elettronico che fa vedere quanto un piccolo bottone si leghi a migliaia di sinapsi. Si è calcolato che un neurone ha mille sinapsi almeno. Questo è un numero impronunciabile di sinapsi nel cervello. Immaginate che in una capocchia di fiammifero ci sono 10 milioni circa di connessioni. Gli scienziati, in particolare i fisiologi, si sono a un certo punto chiesti, ma se noi il cervello lo considerassimo come un computer, lo dovessimo vendere. Allora il nostro computer ha una memoria di 500, 250 giga, 500 giga, un tera, quello è la quantità di informazione. Ma il cervello quante ne contiene? 2,5 petabyte, cioè 2,5, fino a 2,5, 4 milioni di gigabyte. cerchiamo di capire che vuol dire. Se noi facessimo, considerassimo i film, cioè i film, i video digitali contenuti nei nostri film televisivi, eccetera, 2,5 petabyte, cioè vale a dire la quantità contenuta nel cervello, sono equivalenti a 3 milioni di ore di trasmissioni televisive. Quindi il cervello contiene 3 milioni di ore di trasmissioni televisive. Se immaginiamo la Library of Congress americana, quindi, no la libreria, si chiama, vabbè, del congresso americano, contiene circa 15 milioni di oggetti digitali, cioè circa 7 petabyte. Il nostro cervello, ricordatevi, li contiene qua. Quindi la capacità di contenitiva di questa macchina è veramente fantastica. Il cervello dipende drammaticamente dall'ossigeno. Noi respiriamo una miscela che contiene l'ossigeno al 21%, poi c'è azoto e altri gas. E quando negli esperimenti si è visto, si è fatto una quantità di ossigeno, si vede che la capacità agli stimoli, c'è una ridotta capacità agli stimoli, cioè questa macchina comincia a funzionare meno e a funzionare male. E lo sappiamo, la dipendenza dall'ossigeno, perché quando c'è un insulto, cioè un arresto cardiorrespiratorio, dobbiamo intervenire rapidissimamente, perché fino a tre minuti i danni neurologici sono reversibili. Superati cinque minuti, questa macchina si danneggia irreversibilmente e da quindici minuti in poi le persone non sopravvivono. Ma questa macchina brucia tantissimo, pesa poco, brucia tantissimo, alla fine si deve fermare. E quindi il sonno. Cerchiamo di capire a cosa serve il sonno. Cerchiamo di capire un attimo a come funziona il sonno. Se noi prendiamo questo periodo che va dalla veglia sulla vostra sinistra al risveglio sulla vostra destra, vediamo che il sonno si costituisce di cinque cicli di eventi, cioè di cinque fasi, ma queste fasi, all'interno di queste fasi ci sono altrettanti momenti. Vediamoli nella prima fase quando ci addormentiamo cominciamo i muscoli a rilassarsi, però tante volte abbiamo dei crampi, vi è capitato mai la sensazione di cadere nel vuoto, no? Quella è una contrazione muscolare che si ha in questa fase, la vostra, alla vostra sinistra in giallo. Poi comincia il sonno leggero, questo sonno più leggero, l'attività cerebrale rallenta, la frequenza cardiaca si abbassa, la temperatura si abbassa, cominciamo a rilassarsi, i muscoli si rilassano, continua con sempre un sonno nella fase del sonno profondo, quindi in questa fase il sonno diventa più profondo, noi non riusciamo, se siamo svegliati non sappiamo più dove siamo sostanzialmente, e in questa fase l'organismo comincia la fase veramente di rigenerazione. Poi, poi, la fase più importante e più strana è questa del sonno REM, vedete queste fasi in rosso, ora se vedete queste fasi in rosso aumentano via via che si va dalla prima notte verso la mattina, in questa fase il cervello invece è attivo, c'è un aumento dell'attività cerebrale, c'è un aumento della circolazione, della respirazione, però il nostro corpo è come paralizzato, cioè le informazioni che noi abbiamo non vengono trasmesse ai muscoli, chiamato appunto il sonno paradosso, quindi se facciamo un recupero di queste informazioni, vediamo che durante la veglia le informazioni entrano ed escono dal nostro cervello, durante la fase non REM, cioè la fase di sonno profondo, la corteccia viene come disattivata e durante invece le fasi di sonno REM la corteccia è attiva, molto attiva, però la motricità inibita, non ci muoviamo. A che cosa serve il sonno? Allora, questa immagine sulla sinistra, la dovete immaginare come un'immagine che deve servire a spiegare il concetto, fra un neurone e l'altro e fa catene di neuroni, ci sono dei canali che durante la notte, una delle ipotesi, vengono aperti, in questi canali vengono sversate le scorie che vengono prodotte in questa attività, ovviamente il cervello abbiamo detto che brucia, ha un'attività intensa, produce delle scorie che sono la proteina tau, la beta miloide, sono sostanze che devono essere portate via, ebbene è come se si aprissero questi canali, questo è un neurone, alla vostra sinistra è un neurone, questi canali entro il quale vengono sversate, questa era un'ipotesi su un lavoro fatto sui topi, ma 2021, praticamente dieci giorni fa è apparso questo articolo, che conferma sugli umani come la deprivazione del sonno comporta l'accugolo di queste sostanze che sono patologiche, cioè che sono le sostanze di scarto, e seguitemi un po', queste sono immagini, che cosa hanno fatto? Hanno utilizzato un mezzo di contrasto e che è in rosso nelle vostre immagini, questo mezzo di contrasto lo doveste immaginare come l'equivalente delle scorie, ok? Quindi durante il sonno c'è una certa quantità di queste scorie, ma quando andiamo quindi nella parte B, quando andiamo nella parte A vedete, i soggetti con deprivazione del sonno, la quantità di scorie tende ad aumentare drammaticamente, tant'è vero che vedete C, la differenza, la differenza significa sottratto uno all'altro, in soggetti con deprivazione di sonno, queste scorie tendono ad aumentare drammaticamente nel cervello, significa che abbiamo la conferma in diretta che il sonno serve esattamente a pulire il cervello dalle scorie. Durante il sonno c'è la riparazione delle cellule, in particolare del DNA, che sono le nostre informazioni, durante il sonno quelle sinapsi, questa è un'altra teoria, le sinapsi che abbiamo visto che si formano e si mutano col tempo, perché il cervello è in continua evoluzione, c'è una plasticità neuronale, bene, queste sinapsi durante il sonno vengono pulite come se fossi, immaginiamolo, una potatura dell'albero. Quindi prima del sonno si hanno, durante l'attività si formano queste sinapsi, durante la notte viene la potatura e siamo pronti per il giorno dopo. Ma ancora più importante, plasticità neuronale, che cosa significa? Se io faccio delle cose, attivo delle aree del cervello particolari che sono deputate a fare queste cose e questo fa sì che il numero di neuroni, di interazioni fra neuroni aumenti, ma soprattutto da un punto di vista pratico, che facciamo nel sonno? Rielaboriamo le cose che facciamo durante la giornata, è noto per esempio gli studenti che stanno sotto esame durante la notte continuano a ripetere, poi si alzano, si ricordano che non hanno fatto qualcosa, è un'attività di rielaborazione e di pulizia delle informazioni giornaliere. Andiamo invece alla parte che più ci interessa, il risparmio di energia. Abbiamo visto che durante il sonno, soprattutto le fasi non-re, c'è una riduzione dell'attività metabolica in particolare, tant'è vero che la temperatura tende ad abbassarsi. E vediamo che questo ha importanza con lo sviluppo dell'ipertensione, con lo sviluppo dell'ipertensione. Sappiamo che durante il sonno la temperatura si abbassa, abbiamo visto che la frequenza cardiaca si abbassa, la pressione si abbassa. Tant'è vero che questa è una pressurometria delle 24 ore, che è l'apparecchio della pressione messo al braccio che rimane 24 ore. Guardate che cosa succede durante il sonno. Questa è la pressione sistolica, comincia la rilevazione a mezzogiorno e finisce a mezzogiorno. Ebbene, durante la notte, in condizioni assolutamente normali, la pressione massima si abbassa, cioè la sistolica, quindi la pressione minima si abbassa, la frequenza cardiaca, che qui non è evidenziata, si abbassa lo stesso. Ma i soggetti che hanno le osa, invece, purtroppo, hanno una condizione nella quale questa situazione non avviene, perché la pressione, noi vediamo soprattutto che la pressione si mantiene elevata, ma soprattutto potrebbe avere anche un reverse dipping, cioè una pressione addirittura più elevata la notte del giorno. La relazione fra il rischio di sviluppare ipertensione e il sonno è stata abbastanza documentata. Allora si è visto che se io dormo sette ore, è il migliore dei mondi possibili, perché coloro che dormono, colonna a sinistra, vedete questa curva, meno di sette ore, hanno una maggiore probabilità di sviluppare ipertensione, così le persone che dormono oltre le dieci ore, oltre tra le sette e le dieci ore, vale a dire che esiste un tempo giusto del sonno e se questo tempo non viene rispettato c'è una maggiore probabilità del rischio di ipertensione. Così come le apnee, vedete AHI è apnea ipopnea index, che è un numero che si trova in polisonografia, che ci indica semplicemente quante apnee noi abbiamo in un'ora. È un valore che serve a valutare altre cose. Allora se noi consideriamo la colonna verde soggetti che non hanno apnee e li confrontiamo con soggetti che hanno maggiori di 15 apnee, quindi una situazione di osa aboderata. Bene, il soggetto che ha più di 15 apnee ha una probabilità di sviluppare una ipertensione maggiore di tre volte quasi del soggetto che non ha apnee. E le relazioni con le malattie cardiovascolari sono ben note anche da un punto di vista numerico. hanno le osa, sono presenti nelle malattie sia nell'ictus cerebrale, sia nelle malattie coronariche, soprattutto nell'ipertensione, questo è il campo che più diciamo mi interessa, perché soggetti che hanno ipertensione resistente alla terapia, vale a dire l'ipertensione resistente significa che non viene controllata con tre farmaci almeno, con tre farmaci di cui uno è diuretico. Bene, se io non vedo che do questi tre farmaci e il soggetto la pressione non si normalizza, è molto probabile che siamo davanti a un soggetto che abbia malattie. La relazione non solo con le, non solo con la qualità, quantità del sonno, l'abbiamo visto, ma anche con la qualità del sonno. Qui sono analizzate le malattie cardiovascolari e le malattie coronariche, quindi la probabilità di svilupparle. Chi dorme poco, l'abbiamo già visto, è più a rischio, ma anche chi dorme male, chi dorme il sonno interrotto e soprattutto chi dorme poco e chi dorme male ha una probabilità ancora maggiore. Arriviamo alla relazione fra le ossa e il diabete. Il primo dato è numerico, il 40% dei pazienti con ossa hanno il diabete, quindi c'è un dato diciamo probabilistico. Questi sono gli studi, ve li ho portati tanto per farvi vedere che non vi invento cose, sono studi e anche soggetti non diabetici, è uno studio fatto su soggetti non diabetici. Vedete, sulla vostra sinistra abbiamo l'emoglobina glicata che è la glicemia media e sulla sotto abbiamo le apenee. Allora quanto maggiore è il numero di apenee, tanto più alta è il valore di glicemia, pur in soggetti non diabetici, quindi la relazione è chiara. Ora mi odierete, però vi devo portare all'interno dei meccanismi fini. Noi nel nostro corpo produciamo una serie di sostanze chiamate ormoni, che voi conoscete benissimo, e io punterò l'attenzione su due di questi ormoni, la leptina e la grelina. La leptina è un ormone prodotto sostanzialmente dal tessuto adiposo e la grelina dallo stomaco. Allora, gli ormoni hanno un cosiddetto andamento cercadiano, cioè non vengono prodotti dall'organismo sempre con la stessa quantità durante la giornata. La leptina in particolare, come vedete, ha una produzione massima durante la notte e soprattutto nella fase del sonno profondo. Che fanno questi due ormoni? La leptina va a stimolare il centro della sazietà, cioè se io dormo e produco la leptina, la leptina arriva al livello del cervello del centro della sazietà e lo stimola, significa ci dà l'informazione di essere sazi e blocca il centro della fame. Al contrario la grelina. La grelina viene prodotta dallo stomaco, invece stimola il centro della fame e ci porta alla ricerca del cibo. L'insulina agisce come la leptina. Ora, guardate che cosa succede nella leptina. in soggetti che dormono forse pure troppo, vedete la leptina viene prodotta in adeguata quantità, soggetti che invece in quale il sonno viene interrotto, la leptina viene prodotta di meno. Allora, se viene prodotta di meno la leptina, che cosa si ha? Questi sono soggetti deprivabili di sonno. Bastano due giorni e si vede che la leptina si riduce, la grelina aumenta, il soggetto ha più fame e va alla ricerca degli zuccheri. Quindi la deprivazione del sonno attraverso l'interazione urbolare si lega alla deprivazione degli zuccheri. Andiamo ancora più addentro nella fisiopatologia. Lo so che è difficile, ma se mi seguite andremo piano e arriveremo a capire per bene le interazioni. Allora, qui abbiamo il sonno breve e frammentato o la ipossia, cioè l'apnea induce una ridotta quantità di ossigeno al cervello. Che cosa provocano? La prima cosa, il sonno breve e frammentato si provoca la produzione di citochini infiammatori. Sono delle sostanze che vanno ad agire sull'endotelio. L'endotelio che cos'è? Non è altro che la carta da parati che riveste all'interno i vasi, i nostri vasi sanguigni. La cui integrità, se la carta da parati è perfetta, l'endotelio è funzionale, benissimo, il vaso sta bene, ma questo quando le citochini infiammatorie determinano interruzione dell'endotelio, cioè una disfensione endoteliale, questo innesca una serie di danni alla parete del vaso che portano all'aterosclerosi. Abbiamo visto che se il sonno viene interrotto, quella fase di slowdown, di riduzione dell'attività simpatica, quindi dell'attività dell'apparato cardiovascolare, viene interrotta. Quindi la pressione aumenta, ma la pressione aumenta, dove va a aumentare? All'interno del vaso. L'interno del vaso, lo immaginate come un tubo dell'acquedotto, se gli aumento la pressione, rischio di danneggiarla. È questo che avviene quando c'è la ipertensione arteriosa, il meccanismo di danno. Un altro concetto difficile e che sarà spiegato fra poco, è lo stress ossidativo. Quindi ancora queste citochini infiammatorie inducono uno stress ossidativo che porta all'insulino resistenza, cioè il nostro organismo diviene resistente all'azione dell'insulina e questo porta al diabete. Finora sono solo concetti, ma vedrete come fra poco entreremo in questo meccanismo e lo capiremo fino in fondo. E poi l'ipercolesterolemia e poi come abbiamo già visto la riduzione della leptina, l'aumento della grelina che comportano un aumento dell'appetito, che comporta l'aumento del peso e l'obesità ci porta al diabete. Questi studi sono tutta una serie di studi che dimostrano la stessa cosa, cioè le alterazioni del sonno comportano l'insulino resistenza. Questi sono studi che vengono fatti con i primi, questi sulla vostra sinistra, riducendo la quantità del sonno e quindi vedete che aumenta l'insulino resistenza. Questi alla vostra destra sono studi fatti frammentando il sonno, quindi interrompendo il sonno con gli stessi risultati, così come l'ipossia. Alterazione del sonno, insulino resistenza. Io so che mi odierete fra poco, ma dobbiamo capire l'insulino resistenza se non abbiamo chiaro, rimane una parola. Come facciamo a capire l'insulino resistenza? Ci aiuta il nostro albertone nazionale che si mangiava gli spaghetti. Gli spaghetti arrivano nell'intestino dell'albertone e quando arrivano nell'intestino lo zucchero contenuto e i grassi, vengono assorbiti, entrano nel sangue, nel circolo sanguigno e arrivano al pancreas in particolare. C'è la parte di pancreas endocrino, tenete presente che il pancreas ha tutta una parte che serve a digerire le sostanze, ma quello che a noi interessa è la parte endocrina. Cos'è? Sono una serie infinita di queste agglomerati di cellule, sono piccole cellule in strettissimo contatto con dei piccoli vasi sanguigni, quindi gli spaghettoni dell'albertone con lo zucchero arrivano al livello di queste cellule e queste sono cellule in grado di produrre insulina, un tipo di cellula, e glucagone l'altro. Questa è una cellula che produce insulina, il meccanismo è questo, il glucosio entra, è come un termostato, tanto glucosio entra, tanta insulina viene prodotta. Perfetto. Ora abbiamo chiaro questo primo meccanismo. Vediamo che cosa succede quando l'albertone nazionale mangia gli spaghetti. Abbiamo detto che l'insulina aumenta, ma a che cosa serve l'insulina? Bene, noi abbiamo che quando mangiamo gli spaghetti c'è lo zucchero, questi pallini rossi, i pallini gialli sono i grassi sostanzialmente, e qui dentro sappiamo che c'è l'insulina. L'insulina aumenta e a che cosa serve l'insulina? L'insulina serve a far entrare nelle cellule muscolari, adipose, nel fegato, diciamo che non è così, ma a spanne possiamo considerare così, perché i meccanismi sono diversi, sia lo zucchero, sia le altre sostanze, gli amminoacidi e i grassi. Quando io però ho finito di mangiare, rischio che il valore del mio glucosio nel sangue scenda. Allora che cosa succede? C'è l'antagonista, il glucagone, quindi quando abbiamo finito un pasto tra il pranzo e la cena, il meccanismo è completamente diverso, il glucagone aumenta. Cosa fa il glucagone? Fa l'esatto contrario, cioè rimette nel sangue queste sostanze, il glucosio e i grassi, questi arrivano per esempio al muscolo e il muscolo li utilizza come combustibili. Questo è quello che avviene normalmente. Allora, finora abbiamo visto questi meccanismi e andiamo al nocciolo del problema. Noi abbiamo, siamo nel sangue, qui tutto intorno, questa è la cellula muscolare, c'è lo zucchero, queste freccette blu sono l'insulina e qui ci sono i recettori per l'insulina. Questi rossi sono dei canali. Il meccanismo in condizioni normali è questo, l'insulina si lega al recettore come una chiave in una serratura. dialoga col canale, apre il canale, lo zucchero entra e abbiamo una condizione, questo accade nella condizione in normalità. Sappiamo poi che cosa succede. Cos'è l'insulino resistenza? Vi faccio vedere uno solo dei tanti meccanismi, perché se no è veramente difficile, ma ci serve per capire. Questo gioco fra recettore insulinico e insulina non c'è più, perché i recettori scompaiono, vengono, si dice, internalizzati. Questo accade per moltissime situazioni. Tenete presente che il grasso viscerale che noi abbiamo, il grasso che abbiamo all'interno dell'addome, fa esattamente questo problema. E quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che lo zucchero non riesce a entrare nelle cellule. Lo zucchero aumenta nel sangue. Quindi abbiamo le condizioni che sono l'alterata glicemia a digiuno e poi lo sviluppo del diabete. Tanto zucchero nel sangue, questo zucchero non viene utilizzato e i meccanismi poi di terapia servono per lo più nel diabete di tipo 2 a far aumentare il numero di questi recettori, a farli, come dire, esprimere di nuovo. Sapete qual è la cosa più efficace nel far esprimere questi recettori? L'esercizio fisico aerobico. L'esercizio fisico aerobico aumenta il numero di questi recettori che sono scomparsi. Quindi l'esercizio fisico non fa altro che migliorare l'insulino resistenza. Bene, diciamo che abbiamo fatto questo lungo percorso che capisco che sia stato complesso. Fra le osa e il diabete abbiamo capito come le osa comportano, favoriscono l'insorgenza del diabete e dell'ipertensione. Il diabete a sua volta in particolari condizioni facilita l'insorgenza delle osa. Quindi abbiamo visto che le relazioni fra osa, diabete e ipertensione passano attraverso l'alterazione del sonno di quella macchina bellissima che è il nostro cervello. E spero che questa relazione sia stata chiara. Il sonno è una parte essenziale della nostra giornata. Questi 25 anni passati a dormire servono a qualcosa. Grazie per la pazienza. Bene, dottore, io mi ero appuntato delle domande da farle però lei è stato così esaustivo nel suo viaggio attraverso il corpo umano e devo dire è veramente bellissimo perché ci ha fatto capire diversi meccanismi che innescano purtroppo le problematiche di cui noi, le problematiche che noi subiamo e quindi a fine però lei ha già dato tutte le risposte a qualche domanda ma una in particolare gliela devo fare e infatti me la sono appuntata qui ed è questa il controllo del diabete cioè trattare le osas migliora il controllo del diabete e dell'ipertensione e inoltre il diabete 2 è reversibile? Allora, grazie per le domande sono veramente facevano parte di un'altra parte della relazione che poi ho tolto perché era veramente complessa allora diciamo rispondo alla prima domanda se le osa le relazioni le osa col diabete allora il diabete non viene molto influenzato dal trattamento delle ossa purtroppo cioè i dati la risposta è un nì cioè ci sono degli studi che hanno dimostrato un miglioramento per esempio della glicemia post-prandiale soltanto ma una vera e propria riduzione dell'emoclopina gliccata che è ripeto la glicemia media degli ultimi tre mesi non è stata dimostrata questo per il diabete sicuramente è stato dimostrato invece una maggiore riduzione dello stato infiammatorio quindi delle citochine infiammatorie sull'ipertensione il discorso è stato diverso nel senso che l'ipertensione in un certo senso ha dimostrato qualche cosigno in più sulla capacità di ridurre la pressione sistolica e la diastolica faccio però una premessa ci sono degli studi per esempio che hanno dimostrato quanto la durata della cipap quindi della cipap notturna sia importante per il controllo della malattia cioè soggetti che per esempio avevano tenevano la cipap tutta la notte avevano sicuramente un maggior controllo della ipertensione arteriosa per esempio rispetto a soggetti che tenevano la cipap diciamo meno di 4 ore cioè si è visto che soggetti che fanno cipap solo per 4 ore poi la tolgono per esempio hanno la stessa capacità di controllo della pressione dei soggetti che non fanno proprio cipap mentre quelli che fanno la cipap e la tengono tutta la notte io però vi invito a ripensare a quello che abbiamo detto vi ricordate che ho detto il sonnoremma aumenta durante le ultime fasi del sonno durante le ultime fasi del sonno c'è più sonnoremma e meno sonno profondo perché nel sonnoremma se vi ricordate c'è una maggiore attività metabolica del cervello la circolazione aumenta anche se il nostro corpo sta fermo ebbene si è visto che le osa che compaiono soprattutto in questa fase sono le più fra virgolette tossiche cioè quelle che determinano peggiori danni che fanno più aumentare la glicemia per dirle e quindi certamente avrei voluto rispondervi diversamente ma quello che invece ha dimostrato sicuramente una capacità di controllo di tutta la patologia di cui abbiamo parlato è la chirurgia bariatrica ci sono dati di metanalisi della chirurgia bariatrica e qui rispondo anche in parte alla seconda domanda nella quale nell'86% dei pazienti che sono stati sottoposti dati di metanalisi quindi su grandi numeri di pazienti si è visto che l'86% dei pazienti che vanno incontro a chirurgia bariatrica migliora l'OSA addirittura il diabete poi è drammatica la riduzione il 92% e rispondo alla seconda sua domanda il 50% va in remissione cioè su 100 pazienti 50 prendono tutte le medicine per il che usano per il diabete e le buttano e il loro profilo metabolico migliore per l'ipertensione i dati sono quasi analoghi circa l'81% dei soggetti nello studio che citavo migliora sicuramente il profilo pressorio 33% addirittura buttano tutte le lepie quindi la chirurgia bariatrica è diciamo la condizione insieme al controllo che è la riduzione drammatica del peso deve essere una riduzione sostanziale non si parla di guarigione la guarigione viene dalla malattia acuta io ho la polmonite guarisco e guarisco per le malattie croniche si parla di remissione che è più o meno la stessa cosa cioè io sono guarito praticamente non prendo più le medicine i miei parametri la mia glitemia torna normale l'emoglobina glicata torna normale quindi io di fatto sono un soggetto sano però siccome sono malattie croniche quindi è possibile un a distanza di anni perché la chirurgia bariatrica non è poi è molto abbastanza nuova con i grandi noi faremo mi scusi se mi interrompo mi senti? si noi faremo un webinar con il professor vicino e parleremo di chirurgia non di bariatrica in particolare perché è un tema che forse vogliamo affrontare in futuro ma anzi le anticipo che stanno per uscire proprio le linee guida dell'ERTS dove viene indicata i nostri pub guide line che usciranno a giorni in cui verrà specificata proprio la terapia bariatrica come una delle terapie per l'OSA e questa è un po' la novità e quindi a tutti gli effetti la terapia baratrica è una terapia per l'OSA perché come dice assolutamente molti pazienti sviluppano molti pazienti bariatrici sviluppano l'OSA certo io posso interrompervi solo un secondo volevo mandare un nostro spot per la campagna 5x1000 che dura 20 secondi e poi riprendiamo subito grazie sostieni con il 5x1000 l'associazione apnoici italiani APS per le attività informative e di prevenzione scrivi sulla dichiarazione dei redditi codice fiscale 97901470589 per maggiori informazioni apneedelsonno.it mentre parlava chiedo scusa se interrompo mi è arrivata una domanda a cui penso però che abbia già dato risposta cioè la domanda è questa cosa si può fare in presenza di OSA per riuscire a perdere peso lei l'ha già detto o attività fisica oppure per quelli senza speranza la chirurgia bariatrica sì però 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 allora posso se posso intervenire a questo punto noi abbiamo delle armi anche farmacologiche in particolare sto parlando del diabete perché io non mi occupo mi occupo di diabete in particolare ci sono dei farmaci che sono utilizzati o ormai frequentemente nella terapia del diabete che hanno come effetto secondario non importante però una perdita di peso sono i cosiddetti GLP1 receptor agonist se mi consentite vi spiego più o meno come funziona quando noi mangiamo tutti noi il cibo arriva nel nostro intestino il nostro intestino produce una delle sostanze chiamate GLP1 e GIP questi sono ormoni ormai avete familiarità quindi chiave nella serratura questi ormoni fanno tre cose vanno a stimolare quella cellula pancreatica che abbiamo visto a produrre insulina in modo glucosio dipendente rallentano lo svuotamento dello stomaco e quindi consentono un assorbimento più lento arrivano a livello del cervello che bloccano agiscono su quel centro della fame che abbiamo già visto nella slide precedente bloccando il centro della fame quindi praticamente sono dei farmaci che controllano il diabete fanno perdere peso questi stessi farmaci a dosaggio maggiore rispetto a quello usato per il diabete sono indicati nella terapia dell'obesità grave hanno effetti collaterali di tipo gastrointestilale nausea vomito però se uno ci sono soggetti che rispondono in modo diverso questi farmaci sono da tempo utilizzati nel trattamento dell'obesità anche in soggetti non diabetici ci sono studi sui farmaci nuovi ma studi in corso che dimostrano come questi farmaci ottengono dei risultati quasi sovrapportibili in alcuni casi alla chirurgia bariatrica che rimane sempre comunque come ha detto giustamente il presidente Roberti ormai il cardine e il cardine non solo per le osa il cardine anche per perché la bariatrica viene considerata in soggetto obeso diabetico con un BMI superiore a 40 un obesità grave in non controllo metabolico quindi dobbiamo pensare a queste tre entità come un unicum perché noi il vicepresidente prima mi ha detto diabetologo no io sono un internista io sono una persona che cerca di curare le persone non le malattie perché le persone che vuol dire questo vuol dire che la malattia non viene mai da sola specialmente in ambito cardiometabolico penso di averlo dimostrato stasera e non ci ho messo in mezzo le dislipidemie cioè quindi l'ipercolesterolemia ma è un unico quindi dobbiamo se posso medicina predittiva medicina predittiva sì sì è arrivata una domanda da parte di Barbara Chirra per un bambino di 9 anni però la mando in sovraimpressione io non vedo però purtroppo non ho lo schermo gliela leggo io dottore ho un bimbo di 9 anni nato pretermine ha sempre e tuttora soffre di osa il palato ogivale è stato sollecitato all'ampiezza attraverso un apparecchio ortodontico ottenuto per un anno purtroppo credo che non sia stato sufficiente ci consigliano oltretutto intervento adenoideo a quali problemi andiamo incontro se non risolviamo in breve le apne sono di grado grave curiamo già l'alimentazione a basso contenuto di glutine latticini e cibi troppo elaborati per evitare il recluso poi continua ma non lo vedo sì allora io purtroppo non saprei rispondere a questa domanda e quello che so fare lo so fare glielo dico quello che so fare non ho alcun perché io come vi ho detto non mi occupo di osa io non so se il bambino sia obeso e qui apro una una parentesi perché noi abbiamo un'epidemia di obesità infantile che poi è una ed è un'epidemia mondiale ma in particolare nell'Italia e paradossalmente in particolare nel sud dove dovremmo avere maggiore disponibilità di diciamo di buon cibo però purtroppo i dati di letteratura ci dicono che il problema dell'obesità nelle regioni meridionali è maggiore rispetto al nord questo non significa che io voglia il contrario ma comunque è un problema e una cosa che vorrei smentire vi prego è quella che il bambino obeso poi durante una cosa che si diceva almeno quando cresce quando dà sviluppo poi la situazione passa non è vero perché il 60% dei bambini obesi diventano adulti obesi l'obesità è un problema forse legato anche ai soggetti pretermine per meccanismi che non stiamo andando ora sono molto complessi comunque la pediatria non è un mio canale bene io non ho altre domande al momento io ne avevo sto scrivendo alla signora Chirra per dire di inviarci il materiale che lo invieremo ai pediatri e io avevo una domanda in realtà secondo lei un paziente diciamo intorno ai 30 anni che oramai ha un osas quindi ha sviluppato un osas magari quindi in questo caso non ha ancora grandi comorbidità per esempio io faccio un esempio io ho un osas grave ma non ho comorbidità non ho diabete non ho ipertensione per fortuna anche se in famiglia ho per esempio mia madre che ha tutte e tre quindi è un overlap completa in questo caso se noi preveniamo iniziamo già una terapia che possa essere cipap il mad terapia posizionale o anche una chirurgica nel caso che non sia efficace cioè noi gestiamo bene la terapia di osas questa prevenzione posso perché la vera prevenzione si fa nel pediatrico però questo prendere la patologia a un'età ancora diciamo in cui non ci sono comorbidità secondo la bibliografia in qualche modo può prevenire anche se c'è una predisposizione a queste comorbidità come ipertensione diabete può aiutare? sì assolutamente sì assolutamente sì perché i meccanismi li abbiamo visti allora se i meccanismi noi li interrompiamo trattando allora se voglio dire io c'ho un'osa che mi può portare allo sviluppo di ipertensione per cui c'ho un sonno che viene interrotto una durata del sonno che è diciamo non completa il sonno che viene interrotto eccetera ma se io tratto con una c-pap per dirle e la c-pap rispondo assolutamente io ho una condizione di assoluta normalità i dati purtroppo non potete far vendere le diapo ma quello che le ho detto a voce è che il soggetto che fa una c-pap controlla lo sviluppo dell'ipertensione controlla la pressione arteriosa quindi è considerato normale da un punto di vista pressore quello che non la fa o la fa male è quello che sviluppa poi in futuro la comparsa della ipertensione in particolare quindi la risposta è sì facendo prevenzione sulle osse si può fare prevenzione sullo sviluppo perfetto oggi sono stati i nostri uditori un po' timidi quindi poche domande ma forse sono stato è stato buono e sono stivoli ho scritto che è stato chiaro ha risposto a tante di quelle ehm di quei principi di funzionamento che in effetti poi ripeto io avevo quattro domande da fare però tre me le annullate con con io in realtà ne avevo due io pure ne avevo due ma una giustamente a risposta era quella proprio si sta io vorrei semplicemente tornare a stimolare tutti quanti ai corretti stili di vita allora vi do qualche dato noi abbiamo visto il meccanismo dell'insulino re-resistenza non abbiamo visto come a un certo punto quei recettori scompaiono perché quei recettori scompaiono non perché qualcuno ce l'ha fatto scomparire perché la iperalimentazione fa sì che il meccanismo viene chiamato down regulation cioè quei recettori quanto più noi mangiamo quanto più zucchero arriva nel sangue paradossalmente quei recettori diventano più piccoli quindi scompaiono vengono internalizzati è un meccanismo perverso che fa sì che più noi mangiamo e più quei recettori siano meno paradossalmente e più il sistema funzionino la dieta corretta le diete mediterranee ma soprattutto l'esercizio fisico 30 minuti di camminata al giorno ci dicono le linee guida non è molto non è che uno chiede di fare 150 minuti di esercizio fisico aerobico sapete come si fa a capire se l'esercizio fisico è aerobico è molto semplice se io comincio a camminare eh comincio a avere un po' il fiatone un po' comincio a sudare però posso parlare con la persona che mi sta accanto questo è per definizione un punto di vista clinico l'esercizio aerobico l'esercizio diventa anaerobico e non va bene quando io non riesco più a parlare con la persona che sta accanto quindi dovremmo veramente metterci le scarpette covid permettendo e uscire e farci 30 minuti di camminata al giorno e se non lo possiamo fare fuori di casa lo facciamo in casa con la seclette io chiedo ai miei pazienti lo vedete il telegiornale sì allora guardati la seclette il telegiornale sulla seclette sigla di inizio sigla di fine sono 30 minuti al giorno e via e questo è un suggerimento proprio anche io ho appena iniziato la dieta perché purtroppo ho fatto le analisi valori un po' altini come dire io sono di Roma si sente quindi diciamo io ho il mito di Albertone e beh li ho colpito nel segno Albertone sì ma anche della pasta diciamo va bene perfetto ok allora le ringrazio forse è arrivata un'altra domanda ah no il professore è stato chiarissimo dottore no qua dicono eh eh si è stato tutto chiaro il digiuno intermittente inteso in allungare la pausa notturna di digiuno ha effetti positivi come lo sport eh sì allora il digiuno intermittente è un po' difficile da mettere in pratica allora eh perché il digiuno intermittente significa mangiare nelle prime sei ore otto ore della giornata sostanzialmente ci sono tanti sistemi di digiuno intermittente la cosa che si può fare senza sconvolgere la vita è abituarsi a fare esattamente il contrario di quello che ci piace fare allora noi la cena è il pasto della coccola oh perché uno torna a casa sta arrabbiato eccetera mangia rivede la famiglia eccetera invece la cena è il pasto che bisognerebbe evitare eh ci sono degli studi bellissimi che hanno dimostrato come se noi mangiamo nelle prime otto ore della giornata e poi digiuniamo per restanti eh quindi quattordici ore qua più o meno e allora che cosa avviene in quelle altre ore secondo eh innanzitutto sono stati misurati per esempio quelle citochine infiammatorie di cui parlavo prima e il valore si abbassa nel digiuno intermittente e il valore del citochine infiammatorie si abbassa migliorano tutti i parametri metabolici ci sono dei dati che migliorano gli outcome cardiovascolari che vuol dire gli outcome vuol dire che questi soggetti vanno incontro di meno a eventi cardiovascolari eh la nutrigenomica che è una una disciplina che lega la nutrizione ai geni eh secondo il concetto che noi siamo ciò che mangiamo quindi ciò che mangiamo poi va a influenzare il nostro DNA dice che durante questa fase nella durante la notte si ha la riparazione delle durante la fase di digiuno intermittente si fa la riparazione proprio del DNA eh io cerco sinceramente io forse ne ho parlato io cerco di applicarlo il digiuno intermittente cioè io mangio molto la mattina ho spostato il mio pasto principale la mattina mangio le 4 e poi cerco di non cenare cioè non ceno mai o quasi mai se mai voglio fare qualcosina però questo io sono un ex bambino peso quindi per me è molto importante è molto difficile controllare il peso e posso dirvi che da tre anni che faccio questa cosa è un po' difficile organizzarsi però se riuscite a farla vedrete che avrete dei risultati e i dati di letteratura sono tutti a supporto di questo perfetto abbiamo un'ultima domanda poi abbiamo due minuti per chiudere che già stiamo superando l'ora un attimo prima di fare la domanda volevo fare una precisazione la saggezza dei nonni il mangiare della sera è perso mio nonno lo diceva sempre il mangiare della sera è perso non serve a niente vai avanti posso fare una citazione è una citazione allora la scuola sanitaria salernitana è stata una grande scuola medica a Salerno intorno mi pare al XII secolo e la citazione e loro parlavano ovviamente era una scuola filosofica allora il motto era magna cena magna cena cioè una cena grande fit maxima pena ut notte sit levis sit tibi cena brevis è un latino ovviamente maccheronico medioevale ma come però deve tradurlo adesso allora una grande cena provoca fit una maxima pena una grande pena una grande sorpresa offerenza ut notte sit levis affinché la tua notte sia leggera buona levis leggera sit tibi cena brevis mangia poco fai una cena breve parca scuola sanitaria XII secolo bellissimo ottimo quindi chiedevano invece cosa ne pensa della dieta chetogenica immagino cheto intesa per chetogenica allora la dieta chetogenica va bene per un ristretto un periodo di tempo non si può vivere di dieta che è chetogenica in principio della dieta chetogenica e se io torgo i carboidrati e mangio più zuccheri scusate mangio più sostanze proteico chetoni si sviluppano chetoni questi chetoni arrivano al cervello e ci danno il senso della sazietà ok va bene allora io non credo posso dirvi veramente non credo nelle diete io credo nella educazione alimentare cioè è vero che la dieta chetogenica può servire in una prima fase ma noi non possiamo pensare di fare una vita a dieta che è chetogenica perché poi da un certo punto in poi funziona fa perdere peso all'inizio da un certo punto in poi non funziona più secondo me dobbiamo fare una di educazione alimentare cioè va bene la dieta chetogenica all'inizio ma poi dobbiamo tornare a un regime alimentare corretto ciascuno deve mangiare quello che deve nel senso che non è che tutti quanti ci sono persone che stramangiano e non ingrassano ci sono persone come il sottoscritto che se mangia un primo e un secondo durante la giornata il peso sale drammaticamente quindi ci si deve un po' si deve capire il rapporto con il cibo è molto particolare non è solo alimento ma è filosofia gioia tutta una serie di cose quindi ci sono bisogna chiedersi perché uno mangia alla fine ci sono tanti motivi per nutrirsi va bene però tante volte scogliamo nel cibo il nostro come dire malumore questo dobbiamo imparare a controllarlo quindi dieta chetogenica all'inizio ma poi dieta mediterranea che è difficile fare è difficilissimo perché cucinarsi le verdure cioè pulire le verdure se ne va a dire mire di tiri io devo ringraziarla per questo tour bellissimo che onestamente ci ha fatto fare all'interno del corpo umano perché veramente esplica rende rende noto i vari meccanismi i nostri vari meccanismi molto complessi di cui non è che non avevamo idea sì qualche piccola idea ce l'abbiamo però così come ce li ha spiegati lei oggi hanno avuto un aspetto completamente diverso e soprattutto di carattere scientifico grazie grazie a voi per la pazienza grazie dottor Marelli buona serata buona serata al prossimo webinar la prossima settimana di venerdì con il dottor Montemurro parleremo di una possibile terapia per l'osa farmacologica buonasera a tutti